e amico mio bella zio vi sto trollando e vi sto trollando di bella amico mio allora la bombassa del catering original del pop shop perché qui siamo giusti siamo zio io non bago fitu non bago fitu è mitico quello lì e allora amico mio zio guardate qua come vi trollo con questi spacchettamenti amico mio e quindi ci apriamo questo bombardello di sole e luna che l'edicolanza ci ha sfoggiato per bene caro amico vediamo perché qui ci sono delle robe che spaccano e ce le guardiamo bene vabbè il foglietto l'avete già visto e qui il pacchetto ce lo apriamo in diretta con voi amico mio perché ce lo condividiamo come la pasta col tonno e cari amico apriamo bene vediamo bene e qua vediamo se ci esce la bombardello comunque queste carte nuove di questa nuova ipopea di questa nuova espansione veramente mi trovano di brutto e comunque amico me e guardate qua che disegni e va bene l'uccelletto guardate che cosa che disegni japan pop e questo qua e vabbè pancia il volpix di alola un bellissimo reverse guardate questi tipo drago come spaccano guardate che sberlucci canza e poi chi c'è è ritornato il buon vecchio rai quasa o rai casa come lo chiamo io vedete qua è ritornato il buon vecchio un energia water lo strumentello sembra una sigara elettronica o un pipele e vabbè che cos'è il lumacone beware orsone ingazzoso e codicello che qui li hanno messi al contrario e poi amici miei qua dietro ci abbiamo quelle del 3d s che comunque spacca e allora sole luna di nuovo qui è guardiani nascenti rising guardians e ce lo apriamo bene pure questo qua è questo qua condiviso con voi un zio ma mi stai trollando e allora qui guardiamo e sole luna continua così e vedete qui apriamo bene sempre i guardiani nascenti ce lo apriamo bene e guardiamo quest'altro molto bello guardate anche questo di alola beh i personaggi all'idea lola sono tutti belli nuovi come ingazzoso ma ciò guardatelo è molto bello c'è un sì che nelle palestre pokemon non si sconfigge mai quest'altro mascherone pancia così no di nuovo una reverse floreale bellissimo amici ma insomma che bombelle di grafica e beh costano una 5 e poi la ritroviamo olo beh amici sta carta molto molto bella confi guardate che cavo ezza energia water quest'altro qua medusone in gazzone uno bello strumentello pozione max che nel pokemon ce lo dai e si ripigliano tutti e ma ciò che il western evoluzione di quello di prima e il codicello vabbè amico mio pokemon art bella rego bella rego